benvenuti in questa guida top 7 box docce a soffietto di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo box doccia per nicchia 90 questo box doccia è una soluzione pratica ed elegante per la tua stanza da bagno la porta a soffietto scorrevole e pieghevole in vetro temperato trasparente di spessore 5 mm con profilo cromo lucido offre una grande resistenza e durata nel tempo la nicchia da 90 centimetri e l'altezza di 185 centimetri garantiscono una buona stabilità e una facile installazione sesta posizione al sesto posto troviamo box doccia 70 cm modello giada è una scelta eccellente per la tua doccia la sua apertura laterale a soffietto e i pannelli semitrasparenti offrono un design moderno ed elegante mentre la struttura in pvc resistente garantisce una lunga durata il colore bianco rende questo box doccia adatto a qualsiasi stile di bagno punteggio 83 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo box doccia tre lati due è una scelta eccellente per la tua casa la sua apertura centrale e le due ante a soffietto offrono una grande flessibilità nell'utilizzo dello spazio il materiale in pvc è resistente e facile da pulire mentre la finitura bianca caldoni mars aggiunge un tocco di stile alla tua doccia punteggio 87 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare nuovo box doccia flex soffietto angolare con apertura a libro questo box doccia è una soluzione pratica ed elegante per la tua stanza da bagno la sua apertura a libro e le dimensioni riducibili lo rendono perfetto per spazi limitati la struttura in alluminio e vetro temperato garantisce resistenza e sicurezza punteggio 85 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo box doccia a soffietto liberte liberte è una scelta eccellente per chi cerca un box doccia di qualità ad un prezzo accessibile la struttura in pvc è robusta e resistente mentre l'apertura laterale offre una maggiore praticità l'installazione è semplice e veloce un prodotto davvero ottimo punteggio 93 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo forte bxf 140000 e uno box doccia soffietto un box doccia soffietto di qualità con un design moderno ed elegante facile da installare e resistente all'acqua la sua versatilità lo rende adatto a qualsiasi stanza da bagno ottimo rapporto qualità prezzo punteggio 93 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica box doccia soffietto liberte un box doccia di qualità eccellente il box doccia soffietto liberte 70 x 70 cm angolare riducibile colore bianco pastello è un prodotto di alta qualità con un design moderno ed elegante la struttura è resistente e le porte scorrevoli sono facili da aprire e chiudere punteggio 99 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie per la visione